Ma se non vi si è previsto tutto questo, dati caso e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi questa gloria da stronzi avresti toccanzo? Vabbè lo metto qui, non so sbagliare, e accetto i crucifichi e codicia, chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che studia. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dire che la pensione è davvero importante, mio padre non aveva più sbagliato, dire che un laureato conta più di un tranta. Non l'ingegno ha perso la testa, c'è stato il mio corincialismo, ed è un soldatore, non l'ingegno ha perso la testa, c'è stato il mio corin ابotino, Io direi che non ho il fisico per farla così fino alla fine e forse è meglio farla nella maniera tradizionale.